La finanza di Chieti, il raccordo con i militari della tenenza di Ortona, hanno denunciato una teatina per truffa. L'indagine è partita dalla querela presentata da un pensionato 84enne di Ortona, a cui la donna aveva sottratto tutti i suoi risparmi. Si era presentata come figlia di una lontana parente. Sfruttando la fiducia conquistata con modi affettuosi e gentili, aveva convinto il pensionato a farsi cointestare un libretto postale, per poi impossessarsi del denaro depositato attraverso diversi prelievi. Grazie alla dettagliata ricostruzione delle operazioni di sportello, i finanzieri ortonesi hanno proceduto al sequestro di 34 mila euro che erano nelle disponibilità della donna. La truffatrice, attualmente indagata, rischia una pena dalla reclusione da 1 a 5 anni, una multa da 309 a 1549 euro, con l'aggravante di aver agito e danni di un anziano. Tuttavia, utilizzando la giustizia riparativa prevista dalla riforma Cartabia, ha restituito l'intera somma sottratta alla vittima. Questa normativa introdotta permette alla vittima e all'autore del reato di risolvere le questioni derivanti dal reato stesso mediante il risarcimento del denaro, con il consenso di entrambe le parti. Il colonnello Michele Iadarola, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, ha sottolineato l'importanza di questa attività investigativa nel confermare l'impegno costante del corpo nella tutela dei cittadini.